Amici telespettatori sapete bene quanto l'occhio di Polifemo sia sensibile dinanzi ai drammi umani, dinanzi alle situazioni di sofferenza. La nostra missione è quella per così dire di dare voce a chi non ha voce, di raccogliere certe sofferenze che viceversa non avrebbero eco, non avrebbero espressione. Ci troviamo nella città vecchia di Taranto, nel borgo antico in via San Martino 72 per raccogliere una triste storia. La situazione, questa denuncia mi è stata portata all'attenzione della redazione di Polifemo da parte di Ugo Lomartire, già presidente della circoscrizione Isola Porta Napoli, da sempre impegnato per le problematiche del borgo antico e persona molto sensibile, un rapporto diretto vero con la gente. La situazione di un signore, il signor Edoardo Gallina, il quale ha una figliola disabile di 14 anni che vive, è assegnatario di una casa di proprietà del comune di Taranto, una casa che ovviamente presenta tantissime barriere architettoniche, scale su scale su scale. Immaginate le difficoltà enormi per appunto per la figliola di Sapile. E allora prima di andare dal signor Gallina vorrei sentire Ugo Lomartire che ci ha portato qui. Sì, io chiedo con forza all'amministrazione comunale che possa avvenire immediatamente questo cambio perché la famiglia ha avuto un'assegnazione nel 2003, ancora non c'era questa bambina, successivamente è venuta al mondo questa bambina che è di 14 anni, al 100% disabile ed è assurdo e vergognoso che la famiglia si trovi in questa situazione, in un appartamento che ha due livelli e che ha avuto tanto tempo per sollecitare e ha sollecitato l'amministrazione affinché potesse venire questo cambio. Quindi questo cambio è una situazione di buon senso, la famiglia è regolarmente assegnataria dell'immobile e ha tutto il diritto di poter vivere in un immobile su un unico livello al fine di evitare delle situazioni di grave disagio. C'è un impedimento fisico, vero e proprio? Giustamente, c'è un impedimento fisico e in tal senso quindi l'amministrazione chiedo e denuncio con forza questa situazione, chiedo che l'amministrazione comunale di Taranto intervenga al fine di poter dare un'assegnazione di un appartamento con un cambio affinché questa famiglia possa avere il giusto diritto che ha ad avere una casa dignitosa e senza problemi di barriere architettoniche. Ripeto, la bambina ha 14 anni ed è al 100% invalida, quindi non c'è tempo da perdere. Ecco, andiamo dal papà della figliola, il signor Edoardo Gallina. Circa un annetto fa, più o meno, occhio e croce, fu fatta una promessa che avreste avuto un altro alloggio. Chiariamo che voi siete legittimi assegnatari di questo immobile, quindi parliamo di persone che navigano all'interno del perimetro della legge, non stiamo parlando di abusivi o quant'altro, però c'è questo ostacolo. Lei e la sua famiglia, momentaneamente, visto che lei lavora, opera per la curia di Taranto, vi state appoggiando lì, presso la struttura della curia, perché se no viceversa sarebbe un inferno vivere in queste condizioni e soprattutto per sua figlia. Io dico sempre, oltre molte volte ai mali fisici che la natura purtroppo riserva, poi si creano altre situazioni spiacevoli come queste, come questa, e quindi, come dire, al danno si unisce al dolore, si unisce la beffa, altra sofferenza. Dicevo, circa un annetto fa, più o meno, era stata ventilata un'ipotesi, anzi aveva avuto delle quasi certezze di andare via, di avere in assegnazione un altro alloggio, tant'è vero che vedete qui tutto, c'è insomma la mobilia che era stata appunto, era pronta per il trasloco. Poi c'è stato il problema del seno che liquidò l'amministrazione. Nel senso che ci fu l'azzeramento dell'aggiunta. L'azzeramento dell'assessore Vigiano, non l'ho vista più, perché è lei che si stava interessando di questo problema qua. Poi tutto è tace. Ecco, diciamo che c'è questa situazione in cui evidentemente c'è stato questo passaggio da un assessore all'altro, quindi una delega assessorile che è transitata da un soggetto all'altro. Sta di fatto che a noi non interessano i cambi. Poi in assenza dell'assessore mi sono rivolto parecchie volte all'ufficio casa e loro mi mandarono dall'ufficio all'altro. L'ultima volta mi hanno mandato in via vera l'assistente sociale, che io non sapevo che cosa dovevamo fare là. Quando sono arrivato, la documentazione, non so chi, la dottoressa mi ha detto trovi la casa che per tre anni ti paghiamo a noi l'affitto. Io l'ho risposto. Io non è che sono venuto qua a chiedere soldi. qua mi hanno mandato l'ufficio a casa. Io se sapete che era questa la situazione, non venivo perché non sono venuto a chiedere soldi. Sono andato da loro per un appartamento. Poi dopo tre anni che mi pagate questo affitto, questa casa io la perdo. E loro mi risposano così. Noi soltanto per tre anni ti possiamo pagare l'affitto. Io non voglio essere pagato l'affitto. Io voglio il cambio. Io direi che la situazione, penso, lo martire, logicamente sia risolvibile. Perché l'amministrazione comunale, qui mi riferisco ai soggetti titolari delle deleghe alla casa, quindi al discorso dell'emergenza abitativa, del patrimonio, quindi l'assessorato ai servizi sociali. Io mi prendo l'impegno di contattare l'assessore Ficocelli, il neoassessore ai servizi sociali, per affrontare questa situazione. Perché il signor Gallina non vuole soldi, non vuole favore. Perché io lavoro. Il problema mio è la casa. Sono rimasto male quando a coloro mi hanno fatto questa proposta. Stiamo parlando, ripeto, di se fosse per il signor Gallina, che grazie a Dio tutto sommato sta bene, ci si potrebbe arrangiare. Noi stiamo parlando del dramma della figlia. Avete visto il problema? Io le dirò che già salendo, e io grazie a Dio non ho handicap fisici, però già è una bella ammazzata, una bella sudata a fare tutti questi gradini ripidi e alti. Immaginiamo un disabile, se dovesse abitare qui, sarebbe sepolto vivo in casa, non si potrebbe più muovere. Il problema è che le 12, 12 e mezza, va via l'acqua e non c'è un autoclave per arrivare l'acqua sopra. C'era a disposizione sotto, adiacendo al palazzo, proprietà del comune, hanno fatto due decreti, uno a me e un altro signore che io non conosco. A me non è stato dato questo locale che poi risulta anche abusivo, chi ce l'ha? Io che dovevo pagare, lei disse che vi pagava anche l'affitto di quel locale per metterlo l'acqua, a me non mi è stato concesso. Va bene. Comunque, al di là di tutto... Mi interessa per chi l'hanno dato a quel signore e a me no. Al di là di tutto, e così concludiamo, l'appello che facciamo, lo martire io mi rivolgerò all'amministrazione comunale perché qui non ci interessano i colori politici, non ci interessano i cambi di assessore, non ci interessa nulla, se non il rispetto e la tutela di una persona disabile. Io posso chiudere gli occhi davanti a qualsiasi cosa, ma dinanzi ad una persona che soffre, e ripeto, una persona a cui già la natura ha inferto brutti colpi, beh, è brutto, è antipatico, è grave che poi magari la burocrazia, le amministrazioni non siano in grado di, io dico, dare una carezza a chi soffre. Sicuramente questo è il problema principale che va affrontato, perché la vita degli esseri umani viene prima di tutto, quindi i problemi che devono essere affrontati sono prima quelli di dare una giusta sistemazione alle persone che hanno una difficoltà. Mai come in questo caso c'è una situazione di estrema difficoltà con una bambina in queste condizioni e quindi va affrontato il problema con la massima urgenza, con la massima serietà possibile, al fine di dare immediatamente un cambio a questa famiglia, che ne ha tutto il diritto. Bene, e allora noi ci congediamo qui, da Ugo Lomartire e dal signor Gallina, è un impegno che io ho preso e che porterò a termine. Non so circa il risultato, però da parte mia ci saranno i contatti con l'amministrazione comunale e come mio costume non mollo la presa, non mollo l'osso, fino a che non venga restituita la giusta dignità a chi soffre.